Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale oggi un video tutorial sui braccialetti e questa volta li andrò a realizzare con questo fettuccia in alcantara e ci sono è possibile trovarli in diversi colori io per ora l'ho acquistato in questi due colori due giancetti di questi riesca prenderlo un chance che è possibile attaccarlo da un lato e dall'altro questa volta ha scelto la corona ma è possibile anche con l'albero della vita poi questi per la chiusura la colla e quando usate la colla io vi consiglio di mettere i guanti perché questa è veramente molto molto è una super colla quindi è molto pericolosa per la pelle che un metro e basta quindi queste sono le cose che ci serviranno allora come prima cosa vabbè ovviamente pinze e forbicette eccole qua ok quindi prendo 14 centimetri di fettuccia di alcantara e ne prendo due ok li metto in questo modo avviciniamo un po prendo il chart lo metto dentro e lo passo così in questo modo ok ora siccome dall'altra parte c'è il giancetto e non entra la scantara qui metto uno di questi ciancetti stringo e faccio la stessa cosa e faccio la stessa cosa e faccio la stessa cosa ma ovviamente servirà anche una catenella per la chiusura comunque eccolo qua eccolo qua adesso metto i guanti per andare a incollare ok 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 quindi prendo la colla e uno di questi ok 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 questa è uscita tutta fuori meno che c'è i guanti comunque vado ad applicare dentro l'alcantara l'alcantara e abbiamo vinto il gioco del fris e asciatissero attimo e facciamo stessa l'altra parte e lasciamo asciugare lasciamo asciugare un po' ok ok quindi adesso possiamo mettere i gancetti e ecco qua ecco qua i braccialetti terminati faccio vedere anche magari al polso si possono fare di tutti i colori perché poi le fettucce in alcantara veramente si trovano in tutti i colori è davvero semplice questo è con l'albero della vita e si possono anche giocare e metterli insieme diversi braccialetti con diversi charles davvero semplicissimo ma trovo che sia anche molto molto carino l'effetto e soprattutto per l'estate sono veramente molto indicati e niente sicuramente li farò anche con il simbolo dell'infinito che li devo comprare e poi se mi seguite sui vari social comunque vi ricordo che sotto nell'info box ci sono sempre tutti i link di riferimento dei miei social li vedrete e niente come al solito il video finisce qua spero di cuore che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.